Mi piacerebbe perché io due parole del Papa la vedo solo come una cosa positiva, cioè deve essere forte una cosa positiva, non ci sarebbe niente di male, anzi il fatto di negare per l'ennesima volta e di nominare Emanuele Orlandi sarebbe triste perché non è un criminale, è una persona soltanto che aspetta giustizia e basta. E quello è l'unico mio obiettivo, non ne ho altri. Recentemente hai fatto anche un appello alla Meloni perché chiarisse questa situazione al Senato, perché io prima, quando c'è stato anche il voto alla Camera, che è stato unanime, tutti hanno votato sì, ho avuto le assicurazioni, così possiamo dire, quando ho parlato col Presidente della Camera, col Presidente del Senato, il Sottosegretario del Governo Mantovano, erano tutti molto entusiasti di questa commissione, dicevano che era una cosa giusta, lo stesso Mantovano che alla Deleca dei Servizi ha detto anzi sarebbe molto utile, io sarò molto utile in quel senso, anche io alla Deleca dei Servizi, perché io dissi sarebbe importante una commissione parlamentare per tutte le situazioni poco chiare che hanno avuto apparati dello Stato, a cominciare dai servizi, quindi ho visto molto entusiasmo da parte loro e non capisco perché questo freno adesso al Senato, cioè se una parte del Governo è a favore, le persone della maggioranza al Senato si oppongono in qualche modo a quella che è stata la solidarietà da parte del Governo, perché Palazzo Chigi fece uscire una nota dove si dava piena disponibilità a fare chiarezza su questa vicenda, quindi come dire, anche se il Governo in sé non ha un ruolo nella commissione, ma il fatto del senso che il Governo sia favorevole a fare chiarezza quindi a una commissione, per questo dicevo una parola melone, nel senso che per cercare di capire che cosa si è bloccato al Parlamento. Secondo lei possono avere influito le parole su Giovanni Polo II? Sarebbe triste però se fosse così, perché ricordiamo che l'inchiesta è su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. E adesso che vuol dire? Se il fratello dice delle cose poco gradite, fermano un'inchiesta su Emanuela e Mirella perché il fratello ha detto delle cose, mi sembrerebbe una motivazione assurda questa. Loro mi hanno sempre garantito, le persone che ho sentito, anche quelle che hanno detto no, sono soltanto dei momenti per capire, per capire se è giusto non è giusto, ma sicuramente partirà questa commissione, quindi loro continuano a dimostrarmi la volontà a partecipare, a essere presenti e a consentire a questa commissione.